Marchese, lo sa che scherzo mi hanno fatto quei gamberetti che abbiamo mangiato ieri sera a Ronchetto delle Rane? Non mi ha fatto male? No, mi hanno fatto fare un sogno. In bianco e nero o a colori? A colori, io sogno sempre a colori. E che sogno ha fatto, comandatore? Ho sognato che ero rimasto vedovo. Ah, sognato che era morta la sua... Sì, mia moglie. Un sogno completo, morte, camera ardente, funerale. Io camminavo dietro al feretro, alla mia destra camminava lei, Marchese, e alla mia sinistra padre Agostino. Perbacco, ricorda tutti i dettagli. Sì, come fosse adesso. E nel sogno ho provato dolore? No, anzi, mentre tutti piangevano, io solo ridevo. Rideva. Poi, mentre calavano la bara giù nella fossa, ho sentito come un colpetto qui dietro la nucca. Tac, anche abbastanza forte. Credevo fosse padre Agostino, ma invece mi sono svegliato nel mio letto e la mia moglie mi diceva Cos'hai, cretinetti, ridi nel sonno.